Che umiliazione, che umiliazione da parte del Chelsea Un Milan imbarazzante Quanti errori in fase difensiva e nel possesso palla Non siamo stati gradi a tenere il possesso palla Non siamo mai scesi in campo Non abbiamo mai messo in difficoltà il Chelsea Un Chelsea che fino a ieri era in crisi Hanno vinto il campionato contro il Crystal Palace all'ultimo minuto Avevano cambiato pure l'allenatore, hanno un nuovo allenatore Questo nuovo allenatore ci ha messo le palle in testa col suo Chelsea Bisogna migliorare, bisogna migliorare Se vogliamo crescere in Europa Così non vai da nessuna parte Così non vai da nessuna parte Hanno fatto così, 20 minuti buoni Ma con questo possesso palla del calcio Giro palla, destra, sinistra, indietro Oh, ma proviamo ad attaccare oppure no L'uno che ci ha provato è Leao L'unico Gli altri a dormire A dormire Sbagliavano pure i passaggi banali Banali, da pricci impianti Poi i duelli aerei non li abbiamo vinto manco uno Tutti persi, tutte persi Tutte perse le palle alte Le hanno presi tutte loro Sia su un calcio d'angolo, su un calcio punizione Sui calci piazzati Sui lanci lunghi Un duello non abbiamo vinto E non era manco imbattibile questo Chelsea Non era manco imbattibile Abbiamo risuscitato i morti del Chelsea I morti Per questo Chelsea lo potevi battere Noi dopo 20 minuti Con questo possesso palla del cazzo Gli abbiamo regalato I contropiedi Gli occasioni pericolose Hanno fatto tutto il Chelsea Cioè, le occasioni pericolose Però gli abbiamo regalato i noi Gli abbiamo detto Dai, andate a vincere Errori in difesa A centrocampo Non lo so Cioè, l'anno scorso Abbiamo perso contro il Liverpool Sì Però non ci siamo fatti umiliare Con il Chelsea, ragazzi Sarà un calcio diverso Saranno più preparati rispetto a noi Però non era il Chelsea dell'anno scorso I due anni fa È un Chelsea che è in crisi In crisi nera Che manco Aveva Giorginio E il Kantè al centrocampo In difesa Non lo so Noi abbiamo fatto passare Kalulu Come Benkenbauer Per sei mesi vinti Sei mesi fatti buoni Per sei mesi fatti buoni Abbiamo fatto passare Kalulu Benkenbauer Kalulu Da inizio stagione Non lo so Un altro calciatore Oggi male Male pure Tomori Male pure Tomori Che errore sul secondo Sul secondo gol Che errore Non da lui Le marcature Ragazzi Le marcature Le marcature Boh Non siamo stati capaci A fare nulla L'unica palla a gol Che abbiamo avuto Quella all'ultimo minuto Io non so Se facevamo un gol Se si poteva cambiare La partita Non lo so Perché non c'è la sfera Da cristallo Unca palla a gol Con il contropiede Di Leao Bel passaggio in mezzo Decateler Tiro E sbaglia Poi lui A botta sicura Non è che ci va Con la cattiveria Va a molle Kepa Si muove Si trova il braccio Così largo Per caso Fa un mezzo miracolo Ma diciamo che Decateler L'ha tirato addosso E Kruncia Porta a botta Sbaglia L'unica occasione Che abbiamo fatto noi In 90 minuti L'unica Pericolosa Entravo nel secondo tempo Io speravo Forse qualcosa in più Invece no Il secondo tempo Rinizia dove abbiamo finito Il primo tempo Un Chelsea che ci umilia Fa girare palla Crea occasioni Noi Non manco ci proviamo Sempre su questo giro Palla del cazzo Sto giro Palla del cazzo Ma quanto cazzo Vogliamo crescere in Europa Se non batti manco Il Chelsea In crisi Adesso Settimana prossima C'è il ritorno Però se non vince manco Il ritorno Si compromette La qualificazione Perché il Salzburgo Mi pare che abbia vinto Con il Dinamo Zagraiba E non col Salzburgo Ci abbiamo Ci abbiamo pareggiato E avevamo rischiato anche Di perdere pure lì Giuvando male Perché la pareggia stasera È identica Alla prestazione Con il Salzburgo A differenza Con il Salzburgo Qualcosina è fatto Ma a Londra Allo Stempenbridge Non è fatto un cazzo Si si è fatto umiliare Poi Poi un'altra cosa Charles de Catteler 35 milioni Più bonus Che sono quasi 40 milioni Ma oggi Era in campo O no Ha perso troppi palloni Poi ha avuto quella palla Il nuovo cacà Detto da alcuni Milanisti Il nuovo cacà Meno male Che lo va a essere Il nuovo cacà Meno male Si dia una svegliata Sto ragazzo Si dia una svegliata Non ha fatto nulla Non è l'unico Però cazzo Quando paghi 35 milioni Più bonus Che sono quasi Come andate 38-40 milioni Quei bonus Ci arrivano Non fa la differenza E siamo Inizio ottobre E lui gioca Da agosto Due mesi sono Quasi Tre mesi Non sono contento Dalla prestazione Ci poteva stare Ci poteva stare La sconfitta Ma non così Ma non così Non così Quando dovevamo fare Male il Chelsea Non siamo riusciti A sfruttare le occasioni Perché nei primi 20 minuti Il Milan c'era Era in palla Era Pieno Possesso palla Poi non so All'improvviso Errori difensivi Palloni persi Buttati dalla cazzo di cane Passaggi sbagliati Da principianti I Chelsea Che crea Criamoli Rieciamo Fare quello che vogliono Volete dire Ci mancavano alcuni giocatori Anche se c'era Teo Hernandez E Calabria E Selemekers E Messias E stanno ad attacco E mangiando in porta La perdavamo lo stesso Perché il Milan Non era in campo Il Milan Oggi Non era in campo Ha fatto 20 minuti E poi si è spenta E forse con l'ultima azione Pericolosa La Il primo tempo E basta Basta Adesso testa Campionato Con la Juventus Però se giochi Come hai giocato oggi Rischi di prendere 3-4 per Eppure dalla Juve E bisogna cambiare Rotta qua Non sono Non sono Per niente Contento Bisogna Ritornare Quelli Quelli che Siamo realmente Perché oggi Non ho visto Il Il nostro Milan Ho visto Un'altra squadra Che non c'era In campo Vedete Mi piace E commentate Al prossimo video Ciao